LIC! Ben ritrovati i miei cari eventori dell'Usona Bar Calcio. Quest'oggi parliamo di un argomento di cui non mi sarei aspettato di parlare così a breve, così a breve, nel medio sì, ma così a breve ancora no, e mi lascia quantomeno fare delle riflessioni che, appunto, voglio condividere con voi. Non so se vi hanno raggiunto anche a voi queste voci che sembrerebbe che Gioia Saputo stia riflettendo sul suo prosieguo o meno riguardo la presidenza quantomeno unica qua a Bologna. Che cosa intendo con presidenza quantomeno unica? che Gioia Saputo, che nel recente passato, quando gli era stato fatto domanda e lui aveva dato risposta a eventuali investitori che lo potessero accompagnare in questa sua esperienza, che già di per sé è abbastanza eufemistica come cosa, visto e considerato che, ovviamente parliamo di un presidente tra i più ricchi d'Europa che hanno acquisito una squadra di calcio, ma lasciamo stare, avrebbe, ok, sempre, diciamo, declinato l'idea di far arrivare nuovi investitori, ok, per aiutarlo in questo progetto a Bologna, pare invece adesso che Gioia Saputo apra, pare, ho detto pare, che stia aprendo appunto l'idea ad accogliere un nuovo azionista all'interno del Bologna, che come tutti noi sappiamo, basti guardare quello che è successo, io lo dico da sempre, qualcuno adesso mi venga a dire che io non avevo previsto tutto in largo anticipo, c'era chi mi diceva, Luisona, aspetta che quando arriva lo stadio poi Saputo apri i rubinetti, e io rispondevo a lui, quando e semmai, appunto, ristruttureremo lo stadio, sarà la buona volta che poi Saputo se ne andrà, altro che aprire i rubinetti, Ora, dello stadio non si sa assolutamente niente, e a mio avviso, detto, lo dico io, secondo me all'oggi non c'è neanche una data certa d'inizio del cantiere, quindi all'oggi sullo stadio è come se non ci fosse niente, ok? Quindi, Saputo che cosa sta facendo, e stavo dicendo, perché se no perdi il filo del discorso, guardiamo, dissi, a quello che è successo a Roma, cosa è successo a Roma, perché io dico sempre, guardate, che la storia insegna, voi guardate la storia e capirete molto, non state ad ascoltare i giornalisti, che i giornalisti ricamano sulla storia, voi guardate i fatti, se voi andate a vedere che cosa è successo a Roma, sponda giallo-rossa, vedrete il futuro di quello che accadrà qua a Bologna, cosa è successo a Roma, ricordiamolo, a Roma successe che c'era un signore, che prima, tra l'altro di Pallotta, adesso non mi ricordo come si chiamasse, appunto, quello che arrivò, il presidente, prima di Pallotta, di Pallotta, comunque, adesso ci sono i Fritkin, no? Ci sono i Fritkin, cioè c'è stato un passaggio, che cosa voglio dire? che Pallotta era il presidente della Roma, è arrivato, sembrava che dovesse promettere, chissà, sacro cuore, fiamme, ok, per carità, gli ha portati, dirilvero, anche, mi pare, in semifinale di Champions League, poi però tutto è scivolato via, si è disinnamorato, era un allenatore, che se all'inizio, almeno si vedeva spesso in tribuna, poi ha smesso di andarci, e sappiamo che aveva, appunto, poi, accettato, di condividere, le fatiche, dopodiché c'è stato il passaggio, di mano, con i Fritkin, ok? Quindi, quello che si è verificato, con la Roma, si potrebbe, a mio avviso, verificare, qua, a Bologna, perché, il passaggio, il passaggio, l'entrata, di un nuovo azionista, ok? Che tra l'altro, c'è anche il nome, e adesso vi dico, chi sarebbe? Presupporrebbe, ok, ovviamente, nel tempo, ma sarebbe poi, nel breve medio, secondo me, che proprio, magari, proprio quando poi, lo stadio sarà concluso, se, che cosa, cosa succederà? Succederà che, saputo, lentamente, si divincolerà, ok, dal Bologna, Foto Club, lasciando, la maggioranza, cioè, il 51%, quantomeno, perché basta, quell'1%, per stabilire, appunto, chi sia, colui, che decida, a lasciare, al nuovo azionista, che entrerebbe, inizialmente, con la minoranza, e per poi, nel tempo, prendere, la maggioranza, segno, evidente, che, saputo, si sta, appunto, rompendo, le palle, e, segno, che non si è mai, appassionato, perché, saputo, ricordiamo, la riva nel calcio, da non appassionato, e non si è mai, appassionato, perché dico questo, perché questo, è evidente, basta guardare, i fatti, i fatti, ci dicono, che ha saputo, non si appassiona, perché dico questo, perché non è mai, presente allo stadio, perché non parla mai, ai tifosi, se non per una, barra due, quando vuole esagerare all'anno, apparizione, tra l'altro dove, su BFC TV, mai, sia mai, regalarsi, ai microfoni, di altri emittenti, perché potrebbero anche, metterlo in castagna, io dico, ok, quindi, ad esempio, vediamo, tutti le differenze, tra saputo e commisso, commisso, quantomeno, è uno che la faccia, ce la mette, e dice anche, delle cose chiare, e io, devo essere onesto, sono anche d'accordo, con commisso, e non capisco tanto, ad esempio, in questi ultimi giorni, le critiche, che ha ricevuto, per la questione, Vlaovic, perché a mio parere, per come si erano messe le cose, commisso, e la sua proprietà, la sua dirigenza, ha fatto un capolavoro, a vendere quel giocatore, per una cifra, che sarà poi, di 80 milioni di euro, un giocatore che, tra un anno, già dopo sei mesi, mi pare, poteva firmare, gratis, con qualsiasi squadra, quindi, se questo non è un capolavoro, ma questo poco c'entra adesso, torniamo a noi, quindi saputo, starebbe, perché sembra, che sia un condizionale, alloggi, però già quando incominciano, arrivare i condizionali, vuol dire, che carta canta, c'è sotto qualcosa, che bolle in cantiere, sembra che stia, aprendo, appunto, per avere, un partner, ok, ad accompagnarlo, in questa avventura, anzi, disavventura, qua a Bologna, e chi sarebbe, questo partner, perché adesso, arriviamo alla parte, veramente interessante, sarebbe, un fondo, lussemburghese, di nome, Toro Capital, che avrebbe, nella figura, di, Francesco, di Silvio, che è, tra l'altro, bolognese, da adozione, perché è nato, a Matera, ok, sebbene, mi ricordo, di aver letto, ma è bolognese, da adozione, quindi, in fondo, lussemburghese, Toro Capital, e, Francesco, di Silvio, sarebbero, da una prima, appunto, così, voce, che sta, che sta divampando, in queste ultime ore, qua a Bologna, sarebbe, interessato, ad entrare, appunto, tra gli azionisti, del Bologna, ok, si presume, a prendere, inizialmente, la minoranza, non so, magari, il 40, il 46, il 48, il 49%, magari, adesso, magari, inizialmente, anche di meno, per non farla troppo, ok, clamorosa, però, poi, nel tempo, come vi ho già spiegato, all'inizio del video, andrebbe a mangiare, sicuramente, la parte, maggiore, e chi è, questo fondo lussemburghese, allora, a dire il vero, sul fondo lussemburghese, Toro Capital, ho cercato, ma non ho trovato, niente, e già questo, la dice lunga, non ho trovato, niente, se non quello, che ho trovato, con il nome, Francesco Di Silvio, Francesco Di Silvio, chi è? Francesco Di Silvio, praticamente, è un produttore, cinematografico, ok, quindi, lavora nel cinema, come Aurelio De Laurentiis, dove ha avuto, molta fortuna, nel senso, che è stato, molto bravo, ha anche fatto, dei film, importanti, ha anche, collaborato, con attori, di un certo calibro, nel mondo di, Hollywood, ok, ma a noi, questo poco, ci importa, ok, e la cosa, che a me, lascia un pochino, perplesso, è sapere, facendo qualche ricerca, veloce, senza aver approfondito, troppo, che, il fondo, lussemburghese, Toro Capital, e, appunto, Francesco Di Silvio, ora che sarebbero, forse, interessati, ad entrare, nell'azionariato, del Bologna, prima, di fare questo, erano interessati, a prelevare, la salernità, anacalcio, ma non ci sono riusciti, prima, di prelevare, la salernità, anacalcio, ho letto, erano interessati, a prelevare, una minoranza, del Foggia, ma non ci sono riusciti, prima, di fare tutto questo, erano interessati, ad entrare, come presidenti, come presidente, del, fortitudo, nel campo, del basket, per, appunto, prendere il posto, dell'allora presidente, muratori, ma, da quello che so, non ci sono riusciti, ora, non so, per quali motivi, non siano riusciti, ad entrare, appunto, dove volevano entrare, vedremo, se riusciranno, a questo punto, ad entrare, laddove ci siano, spirali, da parte di saputo, come sembra che ci siano, ad entrare, appunto, nel mondo, Bologna, sinceramente, io, qualche dubbio, riguardo, a, tale, fondo, ce l'ho, per ovvi motivi, nel senso che, ripeto, se uno cerca, fondo lussemburghese, e Toro Capital, non trova, altro che, appunto, proposte, per la Salernitana, e per il Foggia, e se cercate meglio, per la fortitudo, per il resto, c'è, poca, poca roba, poca roba, se non, io non ho trovato niente, quindi non so esattamente, chi sia questo fondo, su Francesco Di Silvio, più o meno, vi ho raccontato, adesso lasciamo, la cosa un po' in una bolla, perché, ovviamente, è un pur parlay, non c'è niente di concreto, è solamente, ripeto, una riflessione, che sembra che Joy Saputo, là in Canada, sta incominciando a fare, però, insomma, se è uscita questa notizia, vuol dire, tante cose, se ci pensate, le notizie non escono, a caso, di questa portata, ok, quindi vuol dire, che un fondo di verità, già da un po', secondo me, esiste, e adesso, che magari sta diventando, sempre più insistente, appunto, anche, i giornali, incominciano, ad aver sentito, tali voci, e quindi, ad avere scritto, le prime imbeccate, di ciò che, stanno sentendo, questo è quanto, fate un po' Vobis, quindi, quale potrebbe essere, il futuro, e ciò, e ciò spiegherebbe anche, tutte le mosse, le non mosse, che si stanno facendo, qua a Bologna, potrebbe spiegare il motivo, perché Sabatini, se ne sia andato, guardate, poi farò un video, comunque, su questo, insomma, potrebbe, potrebbe spiegare, veramente, tante cose, in primis, la non voglia, da parte del Bologna, di investire, perché avendo i giocatori, tra l'altro, Tomiasu, e il patrimonio, più grosso che aveva, lo vendiamo, e praticamente, non utilizziamo, quei soldi, per andare, a prendere, nuovi giocatori, sul mercato, anche perché, quei soldi, sono serviti, per pagare Musabarro, insomma, voi capite, che c'è qualcosa, c'è qual quadra, che non cosa, direbbe qualcuno, Poi, voglio chiudere, con questa chicca, anche se non c'entra niente, ho letto, alcuni, che danno, un voto buono, al mercato, perché dicono, ma abbiamo acquisito, tanti giovani, interessanti, e quindi, per il futuro, primo fra tutti, ho letto, Mercier, ok, io dico, per carità, potrebbe anche essere, però, noi dovremmo guardare, un attimo, anche al Bologna, attuale, perché non possiamo, sempre guardare, al futuro, che poi, questo futuro, stringi stringi, guarda caso, non arriva mai, se ci fate caso, ma, io, incuriosito, sono andato, a cliccare, campionato, primavera, dico, cazzo, con tutti questi giovani, che acquisiamo, perché mi pare, da aver letto, che abbiamo acquisito, in tutto, otto giocatori, giovani, da aggregare, mi sembra, di aver letto, alla primavera, e uno dice, porca vacca, il Bologna, quantomeno, vorrà arrivare, in Europa League, nel campionato, primavera, allora, mi son detto, visto che ammetto, la miglioranza, non lo seguo, con più di tanto, dico, vada a vedere, perché questi qui, allora, saranno comunque, nelle prime posizioni, dico, cioè, a meno, in primavera, avremo delle soddisfazioni, Apple, la classifica, vada a vedere, 2021, 2022, cioè, il campionato in corso, quest'anno, e scopro, che su 18 squadre, il Bologna, è diciassettesimo, a dieci punti, tra l'altro, a quattro punti, dalla zona salvezza, perché la terz'ultima, ne ha quattordici, che è la SPAL, la quart'ultima, ne ha 17, che è il Lecce, noi ne abbiamo 10, siamo avanti solamente, al Pescara, che ne ha 5, al che, mi vengono, molti dubbi, che voi già conoscete, di che natura, soprattutto, dico una parola, e poi mi chiudo, competenze, che mi sembra, che siamo, ai livelli minimi, storici, comunque, oggi, mi dispiace, di avervi dato, tutta questa serie, di notizie, che, secondo me, non è che siano, nella loro totalità, totalità, per tanti motivi, molto rose, perché, secondo me, c'è poco da stare allegri, fatemi dunque, sapere la vostra, che cose ne pensate, iscrivetevi, condividete questo video, attivate, ovviamente, il campanaccio pastorale, lasciate il mi piacino, e noi ci sentiamo, alle prossime, chiacchiere da barra, solo amarese.